Romina Power non smette di ricordare sua figlia Ilenia, il video pubblicato su Instagram dalla cantante riporta alla luce un momento speciale del passato. La scomparsa di Ilenia Carrisi, a gennaio del 1994, quando si trovava a New Orleans, ha stata uno dei casi di cronaca pia controversi della storia italiana e di cui si parla molto ancora adesso. Sono passati quasi trent'anni, in cui le notizie o presunte tali sulle sorti della ragazza si sono succedute senza soluzione di continuita. Tra possibili avvistamenti e ipotesi di vario genere avanzate nel corso del tempo, una cosa accerta, il corpo della ragazza non ha mai stato ritrovato. La vicenda, naturalmente, ha creato grande dolore nei suoi genitori, Albano e Romina Power. Le cui idee in merito sono sempre state piuttosto differenti. Albano si è convinto ad un certo punto del racconto di un guardiano che l'aveva vista sparire nelle acque del fiume Mississippi, Romina invece ha sempre pensato che lei possa essere ancora viva, da qualche parte. Romina Power, quella volta in tv con Ilenia e il video che commuove Instagram. Entrambi, naturalmente, la ricordano ancora. Il ricordo di Romina si sostanzia, ogni tanto, in alcuni post commemorativi sul suo profilo Instagram. L'ultimo, in particolare, ripropone un video di un'apparizione televisiva in cui erano insieme. Il video è relativo ad una trasmissione Rai di cui erano ospiti e risale al 1987. Ilenia, all'epoca, aveva 17 anni. Insieme a loro, anche la piccola Christel, che all'epoca aveva due anni. Il dialogo con l'intervistatrice verte proprio sul rapporto con la madre e con Christel e con l'altra sorellina Romina, di pochi mesi, entrambe molto pia piccole di lei. Ilenia afferma Un ricordo davvero di grande dolcezza, cui il web risponde con grande commozione. L'amore che aveva per le sue sorelline era immenso, scrive Romina nella didascalia del video. Maggiore Maggiore Nel prosieguo dell'intervista poi Romina, scherzando, affermava a sua volta, quando la vedono per strada con le sorelle pensano che sia lei la madre. Oppure ci vedono insieme e pensano che siamo sorelle. Maggiore